Siamo da Paco Francisco e in uno di questi camerini si sta cambiando Emanuela. Sarà in questo. Ed ecco qui Emanuela. No, questo è vuoto. Andiamo in questo. Eccola qua, Emanuela, no? E allora, Dulce, si infunda. Ecco qui Emanuela, si sta cambiando. Ma è il vestito dello spettacolo? Non lo so, sto provando. Top secret. Non lo so, sto provando. Se mi fai provare magari chiuso perché... Perché? Top secret. Perché?